la sconosciuta si parlava di belle avventura e ognuno ne raccontava di strane e stravaganti incontri sorprendenti e deliziosi in treno all'albergo all'estero su una spiaggia le spiagge stando a quanto afferma roger d'annè erano singolarmente favorevoli all'amore contra che taceva fu interpellato è ancora a parigi e si trova il meglio disse la donna è come un ninnolo e noi l'apprezziamo di più trovandola negli angoli dove meno se l'aspettiamo ma solo a parigi se ne trovano di veramente rare tacque qualche istante poi riprese perbacco se è bello andate un mattino di primavera per le nostre strade le donne che camminano lungo i muri hanno l'aria di sbocciare come i fiori che bello spettacolo si sente la violetta ai margini dei marciapiedi la violetta che passa nei carretti lenti spinti dalle venditrici c'è aria di festa in città e guardiamo le donne come sono tentatrici nelle loro vesti chiare e leggere che mostrano la pelle gironzoliamo col naso per aria e la testa in fiamme si ronzoliamo e fiutiamo e adocchiamo la si vede venire di lontano la si distingue la si riconosce a cento passi con lei che ci piacerà da vicino la si indovina dal fiore del cappello dal movimento della testa dal passo lei viene diciamo attenzione eccone una e ne andiamo incontro divrandola con gli occhi è una ragazza che fa le commissioni nel suo negozio oppure una giovane signora che ritorna dalla chiesa o che va a trovare l'amante che cosa importa il seno è rotondo il corpetto trasparente o se ci si potesse metter sopra un dito il dito o le labbra lo sguardo è timido e ardito la testa bruna o bionda che importa sfiorate questa donna che cammina provate un fremito nelle ossa e come la si desidera fino alla sera quella che si è incontrata in questo modo io ho conservato il ricordo di una ventina di creature vedute una volta o dieci volte in questo modo e delle quali sarei stato pazzamente innamorato se le avessi conosciute più intimamente purtroppo quelle che si amerebbero perdutamente non si conoscono mai avete notato questo fatto è abbastanza strano a volte si incontrano donne la sola vista delle quali ci riempie di desiderio ma si fa in tempo appena scorgerle quando penso alle creature adorabili che io ho sfiorato nelle strade di parigi provo una forte dose di rabbia dove sono chi sono potrei ritrovarle vederle un proverbio dice che spesso si passa vicino alla felicità ebbene sono certo di essere passato più di una volta vicino a quella che mi avrebbe preso come un pesciolino con l'esca delle sue giovani carni roger d'annè aveva ascoltato sorridendo confermò conosco anch'io tutto ciò come te meglio di te è capitato anche a me saranno cinque anni incontrai per la prima volta sul pont della concorde una giovanissima donna un po alta e robusta che mi fece un'impressione ma un'impressione incredibile era una bruna una bruna formosa con capelli lucenti sopracciglia che legavano i due occhi sotto il loro grande arco da una tempia all'altra un po di peluria sulle labbra faceva sognare sognare come si sogna un bosco amato scorgendo un mazzo di fiori su una tavola aveva il corpo arcuato il seno molto sporgente esposto come una sfida offerto come una tentazione l'occhio era simile ad una macchia d'inchiostro su di uno smalto bianco non era un occhio ma un buco nero un buco profondo aperto nella testa di quella donna dal quale si poteva leggere ed entrare in lei che strano sguardo opaco e vuoto senza vita quantunque così bello pensai che fosse un ebrea la seguì molti uomini si voltavano indietro camminava dondolandosi un po non molto graziosamente ma in modo conturbante vicino alla place della concorda fermò una vettura e vi salì e io restai lì come un allocco vicino all'obelisco colto da un orgasmo che non posso descrivere dal più grande e profondo desiderio che m'abbia mai assalito anche dopo di allora la pensai per tre settimane intere poi la dimenticai la rividi tre mesi dopo in rue de la paix e senti nello scorzerla un tuffo al cuore come quando si ritrova un amante già pazzamente amata mi fermai per vederla meglio venire avanti quando mi passò vicino fin quasi a toccarmi col gomito mi parve di trovarmi davanti alla bocca di un forno poi quando si fu allontanata ebbi la sensazione di un vento fresco che mi passasse sul viso non la seguì avevo paura di combinare qualche sciocchezza paura di me stesso ritornò spesso nei miei sogni tu conosci certo queste ossessioni stetti un anno senza rivederla poi una sera di maggio al calarte il sole da rividi che camminava davanti a me nei viali degli champ elisee l'arco delle toile si disegnava sulla cortina di fuoco del cielo un pulviscolo d'oro un vapore di rossa chiarità fruttuava nell'aria era una di quei crepuscoli che costituiscono le apoteosi di parigi la seguì con la voglia pazza di parlarle di inginocchiarmi dinanzi a lei di confessarle il turbamento che mi agitava due volte le passai davanti e due volte mi trattenni e la lasciai passare due volte trovai ancora andando all'incontro quella sensazione ardente che mi aveva già colpito in ruide la pè lei mi guardò poi la vidi entrare in una casa nella ruide presburg l'attesi due ore sotto la porta non uscì mi risolsi allora a interrogare il portinaio ebbe l'aria di non capirmi sarà forse una signora in vista mi disse estetti altri otto mesi senza rivederla finalmente una freddissima mattina di gennaio mentre percorrevo a passo svelto il boulevard malesherb dall'angolo di una via andai ad urtare violentamente una donna che lasciò cadere per terra un pacchettino vogli scusarmi era lei rimasi dapprima attonito dallo stupore poi le porsi l'involto che avevo raccolto e le dissi sono spiacente e felice signora di avervi urtato in questo modo sono più di due anni che vi conosco che vi ammiro che ho una voglia pazza di esservi presentato e non so neanche chi siete e dove abitate scusatemi se vi dico queste cose attribuite pure le mie parole ad una vivissima voglia di essere nel numero di coloro che hanno diritto di salutarvi un simile sentimento non può offendervi è vero voi non mi conoscete sono il barone roger danette informatevi vi diranno che sono una persona da potersi ricevere adesso se consentiste alla mia richiesta fareste di me un uomo infinitamente felice via siate buone indicatemi il mezzo di potervi rivedere lei mi guardò fissamente col suo occhio strano e spento e rispose sorridendo datemi il vostro indirizzo verrò da voi fui talmente sbalordito che ella dovette accorgersene però a rimettermi la sorpresa del genere mi ci volle poco e pertanto fui svelto a tirar fuori un biglietto da visita e a consegnarglielo lei lo fece sparire rapidamente nella sua tasca con una mano evidentemente avvezza alle lettere clandestine ridiventato ardito balbettai quando vi vedrò esitò come se dovesse fare un calcolo complicato cercò di ricordarsi ora per ora delle disponibilità del suo tempo poi mormorò domenica mattina volete per bacco certo che voglio se ne andò dopo avermi guardato squadrato giudicato e pesato con quello sguardo opaco e vuoto che pareva lasciare addosso qualche cosa sulla pelle una specie di vischio come se avesse proiettato uno di quei liquidi dei quali si servono le piovere per oscurare l'acqua e addormentare le loro prede mi abbandonai fino alla domenica successiva ad un terribile lavoro mentale per indovinare che mai potesse essere quella donna e per fissarmi una regola di condotta verso di lei devo pagarla come mi risolsi a comprare un gioiello un bel gioiello che posai un lastuccio sul caminetto e attesi l'indomani mattina dopo aver dormito male tutta la notte giunse verso le dieci calmissima tranquillissima e mi tese la mano come se mi avesse conosciuto molto bene le feci sedere le feci togliere il cappello il velo la pelliccia poi cominciai con un certo imbarazzo a mostrarmi più galante poiché non avevo troppo tempo da perdere non si fece del resto molto pregare e dopo aver scambiato una ventina di parole cominciai a svestirla continuò da sola perché non vi riuscivo bene o caro amico conosci nella vita momenti più deliziosi di quelli nei quali si osserva un poco scostati per discrezione per non spaurire quel pudore d'astruzzo che hanno tutte le donne colei che si spoglia per te di tutte quelle stoffe fruscianti che cadono in fondo ai suoi piedi una dopo l'altra nulla di più bello che seguire anche i movimenti fatti per riprendere da terra le vesti vuote e molli con me meravigliosa l'apparizione della carne delle braccia nude e della gola dopo tolto il busto e come conturba la linea del corpo sinuoso indovinato sotto l'ultimo velo ma d'improvviso le scorsi sul petto una curiosa macchia nera una grande macchia nerissima e io avevo promesso di non guardare che cosa era non potevo dubitarne tuttavia il ricordo della peluria visibile sulle labbra delle sopracciglia che univano gli occhi di quella prolissa capigliatura che ricopriva il capo come un casco avrebbe dovuto prepararmi a quella sorpresa fu talmente stupito e incalzato da visioni e reminiscenze singolari mi pareva di vedere uno di quei maghi delle mille e una notte uno di quegli esseri pericolosi e perfidi che hanno per missione di trascinare gli uomini in abissi sconosciuti messai a salomone il quale faceva passare su di uno specchio la regina di saba per assicurarsi che non avesse il piede bisulco e quando dovetti cantarle la mia canzone d'amore mi accorsi di non avere più voce o meglio avevo una voce da cantore di cappella sistina della quale lei si stupì da prima e poi si seccò maledettamente tanto che mi rimproverò con vivacità era proprio inutile disturbarmi vogli farle accettare il gioiello acquistato per lei ma mi rimproverò sdegnosamente per chi mi prendete signore diventa il rosso fino alle orecchie per quel cumulo di umiliazioni lei se ne andò senza aggiungere una parola è tutta la mia avventura ma quel che è peggio è che adesso sono innamorato di lei pazzamente innamorato non posso più vedere una donna senza pensare a lei tutte le altre mi ripugnano mi disgustano a meno che non assomiglino a lei non posso più dare un bacio su una gota senza vedere la sua vicina a quella che io bacio e senza soffrire dolorosamente per il desiderio inappagato che mi tormenta lei assiste sempre ai miei incontri a tutte le altre carezze che mi guasta e mi rende odiosa è sempre presente vestita ognuda come la mia vera amante è presente vicinissima all'altra ritta o coricata visibile ma inafferrabile e credo ora che fosse davvero una donna stregata recante sul petto un talismano misterioso chi è non lo so ancora l'ho incontrata ancora due volte l'ho salutata non mi ha reso il saluto e ha fatto finta di non conoscermi chi è un'asiatica forse forse un ebrea d'oriente sì un ebrea mi sono messo in testa che deve essere un ebrea ma perché ma perché non lo so è un ebrea ma perché non è